Calisthenics vs Yoga. Moltissimi mi fanno notare che ci sembrano essere grosse analogie tra queste due discipline e in tanti anche mi chiedono ma che vantaggi può avere l'una rispetto all'altra nel praticare yoga piuttosto che calisthenics? Beh, devo dire che io innanzitutto ho provato una lezione con Giorgia, che vedete comparire qua in sovraimpressione, una delle nostre istruttrici, un'istruttrice di calisthenics e anche di yoga, diciamo una versione di yoga dinamico, ok? Senza entrare nel merito di altri aspetti anche più profondi dello yoga, quindi in merito a, come dire, una ricerca introspettiva, meditazione, respirazione, aspetti di rilassamento, generalmente la parte centrale della lezione che ho fatto io era una serie di posizioni, una serie di sequenze degli asana, si passava in maniera dinamica da una posizione all'altra e devo dire che in questa lezione, che è stata una lezione abbreviata, mi sono fatto un culo così, ho veramente faticato tantissimo, devo dire che non me l'aspettavo, in effetti parlando con Giorgia, lei proprio mi ha detto, guarda è un luogo comune che nello yoga non ci si fa un mazzo tanto, è faticoso, effettivamente ho faticato davvero tanto, ero sudato, ero provato alla fine della lezione. Se devo andare, per quel che ho praticato, ad analizzare da un punto di vista tecnico, che cosa ho fatto, quali proprietà, quali attributi, quali capacità sono andato ad allenare, a colpire in quella seduta, beh, grosso modo, sempre facendo, come dire, un'approssimazione, quindi tralasciando tutti quegli aspetti che ho detto prima, beh, devo dire che ho, mi sembra di aver praticato una serie di posizioni di mobilità multiarticolare, attive, passive o un misto tra le due, e proprio queste posizioni, queste sequenze, hanno palesato, proprio come il concetto di catena cinetica, di catena muscolare, ti fanno capire, ti fanno proprio percepire bene, secondo queste posizioni, come, proprio queste posizioni vanno a sviscerare come, come dire, siamo connessi dalla punta delle dita dei piedi fino alla punta delle dita delle mani, oppure dalla punta dei piedi fino alla sommità del capo. E devo dire che praticare queste posizioni è stata durissima, perché proprio il concetto di catena, quindi allungamento attivo, oppure attivazione di queste intere complesse catene, devo dire che va proprio a mettere a dura prova il nostro corpo, proprio perché va a fare delle leve, va a sviscerare dei punti dolenti nel nostro corpo, dei punti dove ci sono delle rigidità, oppure delle debolezze. Per farti capire, facevo fatica a tenere certe posizioni dove si allunga tutta la catena posteriore e si apre tantissimo in elevazione, ad esempio, anzi si apre in elevazione massima le spalle, e proprio queste posizioni mi hanno messo dura prova, perché proprio un po' come una coperta troppo corta, vanno un po' a scoprire quei punti delicati, quindi io ero un po' rigido in questa catena complessa ad aprire le spalle, mentre a livello di ischio crurali me la cavavo bene, e questo punto, queste posizioni palesavano proprio questa mia difficoltà. Sia un po' di rigidità nei muscoli che si oppongono all'eleviazione del braccio, sia proprio ai muscoli che invece esercitano in maniera attiva questa apertura, sia a livello di estensione toracica, quindi gli erettori spinali a livello toracico, sia proprio anche la rigidità proprio di tutti quei muscoli che si oppongono all'elevazione del braccio. Per non parlare poi di una serie di passaggi dove di nuovo si palesava questo concetto. Pertanto è stata molto dura da questo punto di vista, e lo yoga in tal senso rispetto al calisthenics può essere una disciplina che proprio può supportare bene lo sviluppo nel calisthenics e anche in altri sport, oppure anche solo fino a se stesso, quindi è un ottimo sistema per mantenere efficiente ed in salute il nostro corpo, proprio perché va a lavorare in maniera intelligente su... è proprio un vero e proprio sistema di postura applicato allo sport. Certo è che col trascorrere del tempo, secondo me, in queste pratiche si migliora in questi punti critici, quindi proprio questi punti critici ti fanno anche patire, ti fanno faticare anche a livello muscolare, però si diventa più efficienti e quindi la percezione della fatica nel mantenere queste posizioni o questi passaggi diventa sempre minore. Pertanto lo yoga è un ottimo sistema per mantenere efficiente ed in salute il nostro corpo e per mantenersi in forma e inoltre, detto tutto questo, può diventare un vero e proprio sistema che va ad corroborare molto lo sviluppo nelle skills o negli esercizi di potenziamento del calisthenics e anche in altri sport. Detto questo, rispetto al calisthenics, che tutto questo eserciziario di supporto nel calisthenics dovrebbe essere compreso, ma magari si tende a non farlo troppo, però il calisthenics che cos'ha rispetto allo yoga? Che è un sistema di allenamento contro resistenze, ovvero è come fare pesi, solo che noi non abbiamo dei pesi esterni, usiamo il nostro corpo, usiamo il sistema di leve per sovraccaricare, per creare sempre più carico. Nel calisthenics c'è proprio questo criterio di progressione tecnica, pertanto se uno vuole, come dire, aumentare la forza, migliorare la massa muscolare, la composizione corporea, il calisthenics che in questo senso è migliore perché è proprio un sistema progressivo, si applica il concetto del sovraccarico crescente. Ecco qual è un po' la differenza rispetto allo yoga, mentre nello yoga sì, ok, ho un ottimo sistema, però grosso modo non c'è il concetto di sovraccarico progressivo, ci si attesta sempre su quell'eserciziario, si cerca di migliorare e mantenersi attraverso quell'eserciziario, mentre nel calisthenics si parte da uno step e poi si va per ogni categoria via via, increscendo, cercando di riprodurre il concetto del sovraccarico. Quindi io quando ho sviluppato un certo step che non rappresenta più, come dire, non mi fa far più fatica, non è più allenante, devo andare allo step successivo, e qua poi si apre tutta una discussione tecnica sul calisthenics. Comunque il concetto è quello di andare a creare appunto questo sovraccarico progressivo e non essere mai a sue fatto allo stimolo. Pertanto le due differenze sono queste, lo yoga è ottimo, è ottimo per mantenersi in forma, in salute, poi tralasciando tutti gli altri aspetti di cui non voglio entrare per non essere troppo riduttivo nei confronti di questa disciplina. Nel calisthenics abbiamo appunto questo, come dire, questo criterio che ci permette di realizzare appunto un concetto di sovraccarico progressivo e quindi è ovvio che per lo sviluppo, se uno vuole parlare di sviluppo della massa muscolare, migliorare la composizione corporea e poi costruire performance, ovvio che il calisthenics è ovvio a questa struttura ed è migliore rispetto allo yoga. Quindi noi cerchiamo di non assuefarci mai allo stesso stimolo. Quando allo stesso stimolo siamo assuefatti, cerchiamo di andare oltre. Bene, con questo è tutto, spero di averti dato una panoramica. Tutto quanto è ottimo per l'allenamento, solo che devi sapere esattamente cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!